3, 2, 1 La popolazione ha deciso che le centrali nucleari saranno mantenute in funzione finché sono sicure. Questo naturalmente significa continuare a investire in modo sostanziale. Il futuro appartiene all'idroelettrico e all'energia solare, dice la consigliera federale, ma senza un accordo con l'Unione Europea il rischio è quello di essere carenti d'energia. I negoziati con Bruxelles sono in corso dal 2007 ma finora senza un esito positivo. Dobbiamo far parte del mercato europeo dell'elettricità, dove le nostre aziende possano competere in modo non discriminatorio e dove sia garantita la sicurezza dell'approvvigionamento. Le circa 6.000 tonnellate di materiale radioattivo della centrale nucleare in via di smantellamento raggiungeranno l'impianto di stoccaggio temporaneo nazionale entro il 2024 e saranno trattate come rifiuti per un successivo stoccaggio in un deposito geologico nel canton Argovia.